Il progetto nasce da una sensibilità della provincia perché i cittadini abbiano coscienza di che cosa vuol dire il risparmio energetico sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista ambientale e credo che sia stata una idea molto bella quella di passare attraverso i bambini, le scuole, addirittura questi bambini saranno loro a portare nelle loro famiglie una sensibilità, una riflessione perché poi io vedo che questi bambini hanno capito il senso del gioco oltre che avere un insieme di informazioni precise cioè le risposte che sono state date in questa classe sono entusiasmanti come livello di approfondimento loro questo vuol dire che poi andranno a casa e sensibilizzeranno i genitori è anche divertente perché dovrebbe essere il genitore a sensibilizzare il bambino attraverso la scuola succede esattamente il contrario